Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, siamo tornati con la nostra amatissima bottiglia E questo oggi dobbiamo fare un sacco di robe Allora, in primis dobbiamo creare una casa per le pecore perché averle qua in mezzo alle scatole diciamo che non è proprio l'ideale Direi che già siamo un po' stretti in quattro, se poi aggiungiamo quattro pecore è un po' un disastro Quindi Ferri oggi sarà la detta a creare il recinto, penso che lo faremo di qui, creando una sorta di piattaforma Dopodiché l'altro obiettivo è continuare ad esplorare le bottiglie Perché questa serie ha un obiettivo molto semplice, ovvero esplorare tutte le bottiglie di tutta la mappa Cioè non abbiamo altri obiettivi, già siamo campioncini, sì Ma hai guardato lì in alto, come ci arrivi in quella? E Fede, hai vista? Fede, avete visto quanto sei in alto? Altrimenti non sarebbe una serie per campioncini Una persona normale arriva in quella in basso ma non in quella in alto I campioncini invece si danno un colpo nel terreno e volano Wow, vediamo No, no, aspetta Fede, aspetta Vai, vediamo il colpo Dai il colpo nel terreno, Stef Siete pronti? No Sì, sono pronta, vai, 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 dimostra Andiamo a costruire il recinto per le pecore Io vado a fiete Questa volta l'imbarazzante è stato Stef, non io, io non c'entro nulla Ma te tu ti schifo Grazie Allora Allora, sta per diventare notte, quindi io rimango a casa Vabbè, io inizio a fare i materiali per il recinto Cioè a costruire tutto Io vado sopra Ma io Marce e Marche, no, rimani qua campione, dormiamo ormai Io Marce e Marche facciamo tre ponti diversi Andiamo in tre bottiglie diverse alla volta Così facciamo tutti i ponti, diventerà la mappa dei ponti Dalla mappa delle bottiglie diventerà la mappa dei ponti Ok Io sono già emozionato per questa cosa Vabbè, la mappa malleabile ci sta, si è data a tutte le situazioni Fede, devi muoverti il recinto, io te lo dico già Hai bisogno di legno o ne hai tanta? No, è pieno nelle cast Ho già fatto un sacco di fence Il problema è che mi ha detto che sta per far notte, ma non sta per far notte Sì, Fede, guarda il sole, sta tramontando Sì, dobbiamo dormire, amici Ma secondo me avrei fatto il tempo a farne 15 di recinti Cioè mi avete bloccato però Ha ragione Fede No vabbè, guardate, adesso sta tramontando Ma ora sta iniziando a tramontare, ragazzi Io ho bloccato a Marce dall'andare in giro Non ho detto Fede Vabbè, io i recinti ce li ho pronti Però Fede, buonanotte Buonanotte C'era pecorella nel mio letto Ma non mi ricordo più Allora diamo lì uguale Guardate, non possiamo neanche dormire Ma sta tramontando Notte Notte No Questi qui mi vogliono rubare i letti Infamoni, schifosi Va bene, ok È colpa nostra Vado su Ciao Ci vediamo domani A dopo Addio Ciao Muoviti Allora Vediamo un po' piccola Dove vado io? Che bottiglia prendo? Eh, potrei andare in quelle Bello Ma questa qua che c'è l'acqua È strano che non ci sia nulla Non pensate anche voi Raga, io vado Io vado nella bottiglia della spiaggia Bella Va in vacanza, Steph Sì, sì, vado in vacanza Anche io sono andato in vacanza No, Marco Ma sei un dono Direttamente Marco è andato in vacanza in un altro pianeta Il campioncino della serie è sempre lui, eh In un modo o nell'altro In un modo o nell'altro Bravissimo Di qua Di là Il problema è che avevo un po' di diamanti con me Non so Io spero per te che realmente tu stessi scherzando Anche io Non lo so, vediamo forse È difficile capire quando scherza Perché fa talmente schifo Che quando dice qualcosa che fa schifo È plausibilissima Sono troppo simpatico Non ti preoccupare Allora Che tecnica Qualcuno mi può guardare, per favore? No Cosa stai facendo? Sta facendo una scala verso il cielo, Fere Ma ci sono rimasto malissimo, raga Ma sta puntando davvero all'isola in alto? Eh beh, certo Di già Eh, vuole fare il figurone lui Eh, terzo episodio ci sta E di quelli che nelle spiagge si fa i muscoloni per farsi vedere, capito? Con costumino Con costumino a mutanda Però io c'ho la pancetta Ragazzi Ragazzi Ascoltatemi al posto di Cicerare di queste cose Ho trovato sette diamanti nell'isola dove si pensavano si trovasse nulla Ecco, perdi anche quelli Ma chi è che dice Cicerare nel mondo? Sono lui Ok Però non per il termine Io l'ho apprezzato Ho capito quello che voleva dire Quindi comunque ha funzionato Opla è il termine più famoso dell'umanità Opla Imbarazzante Non hai notato la rima? Non era ok, scusami No, ok non lo dice nessuno Ah no, ok 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 anche Oppure K Vabbè Non mi sembra un video di termini di parole alla moda Quindi per favore Sei tu che l'hai attaccato No Sei tu che hai iniziato con Cicerone Ha detto ciccinare Che cos'è ciccinare? Cicciarare Cicciarare mi piace Sì Ok, nuovo termine E va bene Cicciarare cosa? Qui sotto cosa abbiamo usato? Delle slab Sì, quindi faccio delle slab Eh no, però aspetta Se poi ci devo mettere le fence è un casino È di una tristezza disarmante in quest'isola Ve lo posso dire Ci serve un po' di sabbia? Non credo Prendi Vedo ne abbiamo a volontà Sinceramente Io non ho un piccone Ma non è un piccone Steffo Le basi Me le avete rubati Vedi Ha fuori di cicciarare È vero Marco Ti ho rubato il piccone Non ho fatto nulla Ecco qua È sempre colpa di De Marte Guarda, ti conviene creare un altro piccone Prima che qualcuno si arrabbia Guarda, in questo momento non ho più le mani su Minecraft Quindi non posso crearlo Ok Ma qualcuno ha del legno per me per cortesia ragazzi Sì Oh grazie Vengo a prenderlo Ok Io ho trovato della clay Se avete bisogno di legna ragazzi Semplicemente Per fare un piccone Basta che rompete i tappi delle bottiglie E potete farvi la legna in quel modo Ma sono pieni di legna Che intelligente Io sono nella bottiglia a spiaggia Sì sì Siete visto? Sto arrivando Allora Vediamo un pochino Sì siamo anche pieni di legno Ma se non ci pensano a queste cose Qualcuno di più intelligente deve dirlo E chi è? Quale è vero? Io Io Il signor cicciarare Io non sono molto d'accordo Steff comunque Anch'io Qua ti serviva? Legno Tieni Tanto legno Tieni Legno Non tendo altro Legno Allora sto pensando come fare il recinto della pecorella Penso di espandermi per di qua Ma perché stai creando un'altra strada se l'ho già fatta io? Ah Eh U B Strada I C A E I O U Basta con il Troppo italiano oggi Iniziamo a parlare un'altra lingua Iniziamo a parlare inglese Facciamo i video in inglese ragazzi Ok Ok Allora Dobbiamo aprire un canale in inglese quindi No 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 È un canale per italiani fatto in inglese Come si chiama campioncini in inglese? Championini 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 Little champion Little champion Little champ Little champ Little champ Ancora meglio Little champ è bellissimo ragazzi Oh Io sono in una bottiglia con un cavallo Con un orse Eh beh Fa schifo quanto te Ma io Ma perché stess? Non me l'aspettavo Va bene Ok Allora Adesso metto la whitelist Non ci faccio per entrare nella nostra casa Ok Va bene Io chiamerei il cavallo De Mark Bello Accetto Votazione Votazione Chi accetta? Io Io Ok No Fere Che stavo su di te Democrazia Non potevo rovinare l'entusiasmo Democrazia Ma non ce n'era di entusiasmo Sì era altissimo Sì erano tutti troppo casati Ho fatto vabbè dai C'era un hype dietro questa cosa Mi sono spaventato Io boh Va bene Allora Facciamo così Raga io sono già la seconda bottiglia di oggi Ok Bravo Anche io Io sto andando Però nessuno mi ha fatto un piccone Eh mi spiace Io ce l'ho in diamante Però lo sto usando io Fere ha rubato il nostro piccone in diamante Esatto Eh vabbè o se no come faccio a fare Tutta la parte per le pecore Non lo so Fere Appunto Non lo so eh Secondo me è un po' inutile un piccone in diamante Quello che cosa ne pensate ragazzi E allora fatene altri in ferro Io penso che dovremmo multarla Ma se non costruite nulla che volete Devo multarla Sì 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 Allora quanto ammonta la multa? Allora la multa per utilizzo di piccone in diamante non necessario Esatto È abbastanza pesante Eh già Nooo È niente È niente Non è caduto Stefano No non è caduto Tranquilli Ma io stavo shiftando Eh lo so ma se non sei abbastanza campioncino Senti chi è colpa? È colpa di Marco Raga Ma se No Marci No Allora Chi è che si è proposta a fare facciamo i ponti con gli slab Facciamo i ponti con gli slab Ero pieno di cose Mi dispiace Questo è perché stavi parlando della mia eventuale multa Stef Sei stato punito Mi dispiace di fare è stato bellissimo Eh sì Ferei della legna Tieni campione È nelle casse Stef Quella che non uso sta lì Non ce n'è più nelle casse E allora non ce n'è più Vattela a prendere dagli alberi Eh Stef Me l'hai dato a me C'è il buon De Marche Ma meno male Che è arrivato in suo aiuto subito Guarda Perché poi sono volato Hai perso tutto Avevi tante robe Sì Ragazzi La spalla di diamante Ho visto qualcosa Ho recuperato prima il diamante 23 Allora Cosa hai visto campione? In questa isola qui è nato ci potrebbe essere qualcosa di interessante Ahia Ma veramente interessante Ad esempio Hashtag uno i commenti per favore Sembrirebbe esserci il portale del land Bello Andiamo tutti a morire Sì Però secondo me è fake Non ne sono sicuro Come è fake Come quello del nether Dell'altra volta Che è semplicemente un blocco di ossidiana Marci però non puoi anche fare clickbait Perché è terribile lui Perché stavi farmando Pietra? Perché sto facendo la base in pietra Non abbiamo Siamo in carenza assoluta di materiali qua Eh sì Eh ragazzi Qua non va bene Io darei Licenziare qualcuno Sì Allora In questi casi ci passa chi ha come ruolo il costitutore di ponti Quindi Ah mi avete licenziato come costitutore di ponti? No 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 Quando sei stato licenziato? Nel primo episodio Hai ricevuto un documento ufficiale? Mi è arrivato un documento dallo stato delle giagge Che ho scritto che sono stato licenziato Ridicolo Non parlo Senza il mio avvocato non parlo Non sto capendo quest'isola Anch'io non ho minimamente capito cosa sto dicendo Però Marci è distratto dall'isola Ok ragazzi Ok Ok ragazzi Questa qui è una cosa molto bella Dobbiamo cercare gli enderai Perché? Cosa ce ne facciamo? Nell'isolette credo È molto bella stasola Se volete darci un occhiato venite No no io non vengo Solo che c'è la tangenziale da prendere No silverfish No 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 Dai sì No Ma come silverfish? Raga mi stanno massacrando È una trappola quest'isola È una trappola e tutta silverfish Eh Scappa Ragazzi penso che sia l'isola più importante del Di tutto il posto Dove sei? Arrivo Dove? Dove? Dove è il jesus jesus jesus? Aiuto Arrivo Sono circondato No non devi essere circondato Ho bisogno di un po' Stef basta Ecco mattela da solo Il silverfish non sta ad arginare Basta Fere vieni qua No non vengo da te Vieni a darmi la mano No Arrivo La mia spada in legno può arginare Qualunque Devo non ti preoccupare Sto ar Arriva Stava arginando? Sto ar Allora Allora Dov'è che è? Dimmi la direzione delle coordinate Marce è arrivato campione Allora eh Però Marci Dimmi Non è una buona idea A far così Cosa stai combinando? C'è il momento senza spada? Quando si può neanche costruire un recito Quale è la idea Marci? Raga tutti i blocchi sono di silverfish Eh sì perché poi si rompono piano piano gradualmente Non è possibile Eh no funziona così Minecraft Serve una spada in diamante raga perché le spade in ferro se li colpisci più volte No no Sto guarda che Steph non ti conviene molto Io sono con una spada in legno Muoio Muoio No scappa Scappa Mi sto sacrificando per te Eh ma moriamo entrambi tanto Arriva Demarch con la spada in legno Perché Nezzone è venuto con una spada decente? Ma come state combinando ragazzi? Bene Io mi sono sacrificato Bene ci sono almeno 40 silverfish No ragazzi è finita No che 40 È una trap No sono di più di 40 vero? Eh perché stanno rompendo il tire cobblestone Meglio ragazzi Eh Demarch è morto Ragazzi c'è senti venuti a darmi una mano Uno senza spada e uno che la spade in legno Allora no Steph ti spiego la tecnica Sì almeno preferisco Fere che dietente non c'ha neanche provato Esatto Tempo fammi parlare No Allora ti spiego la tecnica Devi far sponare tutti i silverfish Dormiamo Dormiamo Io non mi esprimo più Dormiamo Non posso dormire devo lavorare Cioè quando c'è un problema nella vita si dorme Fere viene a dormire No non dormi Dai Fere Raga mette una pecora in testa Ho rotto tutto Non riesco a tornare perché qui percorsi vanno tutti schifo Non lo sai che nella vita devi aspettare che le cose si sistemino da sole Però dovete dormire Steph E Fere Arrivo e non rompere Lo dico E come funziona se non siamo più in democrazia? Devi piazzare una torcia per terra e dormire Siamo in monarchia ragazzi Cioè è Rester che decide No secondo me è Fere che ha il comando Regina Fere? Ma di cosa? Io ho perso tutto Regina Fere e lei ha il comando adesso Fere è qui in comando Ci dia degli ordini Morite Hai vinto tu Ok Va bene Va bene Mi regina Questo non me l'aspettavo Sto già andando nel posto giusto Per farlo guarda Addio Così forse diventano quella serie Ecco qua Marker ha rispettato Perché è morto? Ma perché? Ha rispettato gli ordini di Fere Lui è di quei sudditi schifosi Che capito Allora Se in monarchia Il king o la queen decide Devi fare Quello è vero Questo è quello che hai con gli sfigati Però c'è un problema ragazzi Ce ne sono veramente tante Infatti avrei fatto anche una bella armatura Perché con che cosa Stefano Ma ancora che ci provate? Ma stai scherzando Fere? Regina Fere Guarda che qua c'è tutto Per favore ragazzi Non continuiamo questa storia Basta! Mamma mia! Mi scongiuro King di Stefano ragazzi No neanche Ma dopo quanto te spona no? Non despo Dobbiamo uscire la server Ah E poi te lo faccio Oh c'è una cesta qua No non è vero Oddio Stef la prendo No non prendere nulla Perché tanto moriamo Lascia tutto dentro So già Ci sono almeno tre cesta Gli ho già viste Però una riesco a prenderla scappando No lasciamo così Va bene va bene Allora ragazzi È il trofeo che prendiamo Se lo so già facciamo Questa è l'isola più importante Anzi è la bottiglia della vita Dici Secondo te? Dicevo Secondo me Essendo che sono entità Se li caricate E poi vi allontanate Da quel chunk E non viene più caricato Dovrebbero despoonare Vedete come fanno I servie della plebe? Ah Stef allora Io so Che adesso ti vengo lì Ad ammazzare Marci Allora vengo anch'io Sto facendo una bellissima cosa Sì 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 Lascia giù un piccolo di diamante Allora Sì esatto Sto mettendo te le cose a posto Uccisi un botto Uccisi almeno tipo 15 Facendo così Wow E Marco tu neanche uno Io li ho attirati Eh peggio Fai te Va bene Ti ho intesi Eh Ok Vediamo il cambio Stef Appena muori te Ci sono io Esatto Però ne sono arrivati moltissimi Perché ho reso un blocco di foglia E guarda quanti cavolo sono adesso Dov'è chi state? Bah Non penso di aver mai visto Quei tanti silverfish Su minecraft Eh sarà allora La risa più difficile Secondo me ragazzi Sì 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 Infatti ci sono almeno tre chest Cioè penso che Ci siano infinite ricchezze Io ho visto una mela super OP ragazzi Cioè questa dobbiamo Il bottino dobbiamo portarla alla regina poi Ucciso tutto Ucciso tutto Raga ma che strada avete fatto Per arrivare lì Perché? Fa schifo E porca miseria Aia Ragazzi non abbiamo più la regina Non aveva neanche parenti In un'isola inutile A non fare niente A uccidere silverfish e basta Fere si trova una grande cosa qua Ma se esito Non si trova niente Non troverai nulla Dobbiamo fare le lezioni anche qua Guarda Fere io questa volta Voglio un attimino difendere il mio amico Stef Grazie Praticamente ho aperto una cesta a casa E c'era una mela super OP Quindi non so Allora E cosa ce ne facciamo della mela super OP? Eh ecco Ma quanti ce ne sono lì nell'angolo No scusate Ragazzi vi giuro Quest'isola è rotta Ma dove siete? Io non ho ancora capito Ma spero guarda Tu penso che dovresti andare a pescare Marci come ci sei sito? Non vi vedo Vi risalta il blocco Allora quando tu esci dal coso a destra Ok Devi scendere con la scalinata infinita verso il basso Ok Ah e poi a destra Perfetto Sempre dritto Vado vado Voglio vedere dove è che state perdendo tempo da due ore Non stiamo perdendo tempo No Stef Figurati Ne avresti viste cinquanta di isole nel frattempo Ma questa è l'isola E poi raga sono bottiglie Marci abbiamo una spada a testa Andiamo Sono isole dentro le bottiglie Stef Quindi è la stessa cosa Io non sto capendo Ma raga sono infiniti Raga è l'isola Questo Qua è l'isola di Peter Pan Sì ma prendi le casse e scappa No no Stef Stef tu non è venuto Qua ti è arrivato a passo Ragazzi ci sono troppi Qua ci vuole una TNT No Cosa volete fare? Ragazzi la TNT Facciamola No no Marco ci sono tre cesto Stai tranquillo Vabbè ma ho capito Ma come potete fare? Sono troppi ragazzi Ragazzi con calma Fere ce la facciamo Noi abbiamo bisogno di un Peter Steel Quelli che gli dà fuoco Arrivo Ma non è vero Ma secondo me io sto arrivando Fere dimmi che sei venuta con una spada almeno Certo che è una spada Ok Ah io ho aperto una cesta No non toccare le ceste Perdiamo tutto Perché poi tanto muori No la prendo e scappo No Fere fidati Lascia le cose lì Stai posso scappare Sono in un'ottima posizione rispetto a voi Io la prendo e scappo No Fere Dobbiamo completare l'isola È una challenge Sì sì fatela da sola la challenge Ragazzi ho preso una cassa E sto tornando Ma io penso Hai preso quelli con la mela OP Fere La mela OP I diamanti Gli smeraldi Una fornace Cinque libri Allora vai a creare spade di diamanti e armature Eh appunto Eh appunto È meglio fare così Siete inutili No cioè Cioè dovevo arrivare io per risolvere le cose Ma non è risolto nulla Lo sapevamo fare anche da soli L'ho visto Morendo 450 volte nello stesso punto E noi stiamo cercando di killarli Non di arginare il po' No li devi arginare Fere vuole arginare i silverfish Se sono troppi Ragazzi ho il pink and steel Ok Ma non va sul vetro Quella teniti Anche quella è un'ottima idea No Fere non è una buona idea Perché sono le chest poi Ma le prendi e puoi esplodere tutto Le prendi e scappi Così sono d'accordo Così sono d'accordo Ok hanno preso fuoco Guarda Marci Tutto quello che ho recuperato Tieni Tieni Guarda quell'imbecille Tenete 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 Come sta andando Non mi sanno molto bene Fate le armature Eh ma mi serve il piccone Per spaccarlo sto diamante E dovrebbe essere nella cassa Io non l'ho toccato Io ho rimesso tutto a posto Prima di andare lì Faccio una cassa nuova però ragazzi Perché qua Ma le porti le pecore dentro le cinti No non si muovono Quindi lo dovete fare voi No Non hai capito Non camminano Steph Ci ho provato E allora ho detto Basta vado dei silver Ecco perché non le portava Steph Ecco perché è venuta la bottiglietta Sì ora è tutto chiaro Non ci stava aiutando Stava arginando un altro problema Aia Aia Raga io posso Po problema Io posso fare full diamond Però non so Fai delle spade Non lo so Quello che vuoi Io non mi sono emozionato Non mi sono emozionato onestamente Al full diamond di marzo Però Fate voi Perfetto Dai almeno uno Ragazzi Ci penso io Ci penso Abbiamo già vinto con me raga Steph Sai che in realtà Sono quasi finiti secondo me raga Eh ci credo Perché gli ho dato fuoco io Ma hai sentito che sono Con la spara di diamante Come un cavaliere Nella tavola rotonda No La tavola rotonda Su Minecraft non c'è C'è una tavola quadrata Appunto Pensa quanto valgo Tavola quadrata Io non mi esprimo Ma perché Marco sta nuotando lì Marco ma fai qualcosa da tornare Ascolta ho caldo C'è il sole Posta le pecore sposta Raga Raga Calmi Allora sto tornando nell'idolo Dove sono le altre casse? Sono qua Sono qua Una è qua No ce ne sono No basta Una l'ho presa Una l'ho presa Una l'ho presa Mi lasciate le mie casse? Io l'ho presa Non ce ne sono altre casse Steph No un'altra è qui sotto Un'altra è qui sotto Quella è mia Non toccarla Eh quindi non è meglio prenderle e scappare No Dai sei un imbecille Togliti Raga c'è un accendino lì sotto È il mio È il mio Bello Ma cosa? L'altro di me su Raga gli ho uccisi tutti i silverfish qua Quelli da quella parte di lì È il mio C'è anche del diamante qua Se volete lo possiamo picconare Ma se c'ho tre decilivelli ragazzi Evidentemente ho fatto qualcosa Alla mia Hai rubato la mia exp Ma guarda Dove è la mia spada di diamante? Chi l'ha mitocoso? Che non c'ho una spada Oh è morto Dove è la mia spada? Giù Io sono arrabbiato Ha rubato la spada Come ha rubato i miei livelli Ma i livelli ce li avevo già Ma se avevo undici livelli Campione Ma qui è l'altra casa Ma non ne riprendi undici Steph Quando muori Tenerà la metà Sì a te Avete preso tutto Hai cavalli da tavola rotonda Non sa che roba I litigi fanno male al gruppo Per favore smettiamola Ma mica c'erano tre cestes Scusa C'è tutto ci ha fatto Fare sto casino per due cestes Tre cestes erano Dove è la terza? L'abbiamo già aperta Sì sono trentuno Però ragazzi Non c'era niente di che Ma C'è un po' di diamanti Mamma mia Fere Come attacca Steph E non c'era niente di che Ma io penso che Ci sei lì da venti minuti Per niente Steph Io penso che Fere sia fuori Mamma mia Io penso che tu sia fuori Steph Che hai perso solo tempo Io penso che ci sia bisogno Di un po' Che ci isola No ragazzi sono fuori No non è fuori Qua ci stai giocando un po' ragazzi Lo dico Io sono bloccato Devi salire da qui Eh non c'ho più una vita Fare tutto il giro Ciao Steph Rimani qui per Steph La bottiglia mi ha distrutto Ho notato Ti ha provato emotivamente Sì Non da casa finalmente 8 smeraldi 7 diamanti 21 di gold 6 mele Posso fare 6 mele d'oro Fere Assumiamo un avvocato Durante i vidi Quando litighiamo Lui risponde a tutte le accuse Io ti ho già querelato Sei già in galera Allora Marco Sì sì Sei già stato querelato tu Va bene Mi dispiace Però finisce la quarantena Sei dritto in galera Ah Raga le pecore Eh vai No ragazzi Steph non mi seguono Cioè guarda Andiamo a guardare la visione Allora Qui ho il grano Guarda Mi guardano e non mi seguono Le vedi che sto ferme No no voglio dire una cosa Siamo tutti d'accordo che una vera regina viene seguita dalle pecore No Sì Guarda mi seguono due passi e poi la smettono Ma faccio a portarle lì Allora Dammi il grano Tieni Uno Uno a testa vai No devi toglierlo No io faccio vecchia maniera ragazzi Eh Pecorelle Buona Per entrare in casa Quindi per favore Ecco buongiorno Allora Io mi arrendo Secondo me è molto meglio la vecchia maniera Sono d'accordo Non vi sopporto più E vi dico Ciao ciao Ciao